ciao a tutti e bentornati in questo pregiatissimo canale allora nel penultimo riassuntone abbiamo preso in esame il vlog di chiara e vi ho letto gran parte dei commenti presenti sotto il suo video però giustamente chi ha commentato sotto il vlog di davide si è sentito escluso dalla festa pertanto oggi andiamo a colmare questa lacuna e andiamo alla lettura dei commenti presenti sotto il vlog di davide allora abbiamo sabrina zanella che scrive ma spazzolino e dentifricio o mamma mia non ho parole mentre neve del mattino scrive mozzarella e salame fate ridere questo fa riferimento al fatto che quando hanno fatto il room tour nel frigo avevano mozzarella e salame e bottiglie d'acqua rossana galatina scrive ma sto stile americano come sarebbe perché io sia gli alberghi che i classici motel in america li ricordo diversi genativo 2467 scrive le tende automatiche e tutta una serie di faccine che ridono poi abbiamo carla ferrari 787 che scrive ma gli infradito a fine video che si vedono grigi di chi saranno e ma allora doveva essere carla 007 comunque valeria 88 dice il violatore dove si è nascosto nella vasca sotto al letto ed abbiamo anche il gradito ritorno di homer j simpson che scrive ma il letto di dennis dov'è poi c'è mica che lascia un cuoricino e inoltre chiara k 8845 che scrive come mai il disimpegno non l'hai fatto vedere di solito fai vedere sempre tutto molto molto strano ed andiamo al commento di caterina mantovani 8703 che scrive ma lei inizia il video facendo vedere da fuori la camera di altre persone come si emozionano per una tapparella elettrica è incredibile effettivamente sono strani perché si emozionano per ogni minima cosa poi c'è ivan il terribile che scrive per una volta lui corregge lei bravo si dice perché e non parchetto come aveva detto lei che siano le prime avvisaglie di una ribellione di davide e chi può dirlo ed abbiamo un altro commento di ivan il terribile che scrive ciao davide mi saluti un mio cugino che vostro fan vi segue sempre da tantissimo tempo lui è impiegato alle poste si chiama franco bollo ciao buone vacanze top e year è terribile questo ragazzo ma è stato perlomeno onesto perché ce l'ha messo anche nel nick poi abbiamo la mia carissima analisa che salutiamo che scrive vi siete spostati da milano per finire in ciociaria con tutto il rispetto il lazio è la mia regione si mangia bene c'è da vedere ma cosa state a fare i bagni in piscina se foste andati all'idroscalo tutte le mattine vi sareste stancati di meno vi meravigliate di una tapparella d'apertura elettrica di un buffet qualsiasi però invece di andare a monte cassino a casa maria a trisulti che è stata restaurata da poco ed è qualcosa di interessante pensate a mania e a trovare un primark e se non c'è aiuto è come venire a roma e non vedere il papa analisa quelli non sanno manco chi è il papa comunque valerio comelli 1063 che il suo codice di avviamento postale scrive azz vi state alzando di livello grazie cari siete la mia consolazione mi raccomando non mollate e andate avanti a farvi sfottere per quattro spicci che credetemi la vita in fabbrica non è facile e passiamo al commento di smomo 3710 che scrive ma a inizio video hai inquadrato le finestre del tuo vicino distanza perché forse quella di dennis a questo commento risponde eleonora 9758 che dice la inquadrata di proposito per creare come sempre trash mentre realagna scrive facciamo vedere il meccanismo delle tende delle tapparelle automatiche ma sul serio io le a casa da 20 anni santo cielo ma dove vivono questi commento a cui risponde visla 82 che dice loro sono poveri vivono in una casa popolare per loro questo è lusso roberta invece scrive roberta chi roberta 5336 stile americano is the new stile grecia parlate di stili e non siete mai usciti dall'italia ridicoli qui è un po come quando non mi ricordo con chi era in hangout e quella persona aveva inquadrato il suo soffitto che appariva bianco con dei dettagli in cartongesso e lei disse ah bello quel soffitto io adoro la boiserie quando poi la boiserie altro non è che un rivestimento di legno alle pareti e non al soffitto chloe romeo scrive vivono alle popolari in una casa mezza distrutta in pianti elettrici di fortuna e normale poverini che quando vedono una tapparella elettrica gli sembra di stare in america e si eccitano bisogna pure compatirli anna maria invece è rimasta impressionata dal contenuto del frigor perché scrive io posso capire che ci si porti qualche snack e dell'acqua nelle camere d'albergo ma le mozzarella e il salame what the fuck ed andiamo velocemente a quello che è il commento di alberta munzi 3003 wow che scrive ma che naso ha e qui le viene risposto non ce l'ha il naso ha un viso strano loredana dice è tutta strana è tutta strana è tutta strana vabbè sono tutti solidali tra loro mi piace quando le persone vanno d'accordo tra loro poi un altro utente scrive rinoceronte allo specchio sei dimagrita tantissimo quasi anoressica qui l'utente fa riferimento al fatto che in più persone le hanno fatto notare che in questi ultimi vlog lei appare decisamente lievitata mentre luca 7 9 4 6 è preoccupato per davide perché scrive poveraccio non può neanche decidere se la tapparella va su o giù aurora cavallo che salutiamo scrive stile americano is the new sembra la grecia mentre ciccina fa notare che spazzolini e dentifricio come sempre non pervenuti ciccina ma hai visto le condizioni dei loro denti beh lì c'è la risposta eleonora 9 7 5 8 scrive davide se dici che lo youtuber è il tuo lavoro perché fa tutto chiara se tu volessi migliorarti perché non metterti seriamente a fare da solo i video da anni sei solo la cosiddetta comparsa è pur vero che tua moglie non fa nulla per aiutarti se non evidenziare gli errori che commetti pensaci pensaci in quali condizioni versi non hai una vita tua niente zero tutto controllato da lei vabbè eleonora tu sei anche carina spronare davide ma sinceramente a me non pare che lui sia fatto per youtube rosanna mancuso scrive anch'io ho le tapparelle così voglio dire non è una novità e roberto nisti corrisponde in sostanza una ciocia room vela 101 scrive bellissimo stile americano usa united states of america cowboy aquile e perché no mike buongiorno mike buongiorno mentre l'utente purpodella è una persona più concreta perché chiede e il rattuso dove mentre claudio 2503 fa un riferimento paesaggistico perché dice impressionante quando lei si gira a baciarlo di profilo copre la montagna mentre maria concetta di giacomo 9894 oddio ci metterai un secolo per scrivere il tuo nome lei dice che occhi che ha ma che macchia che ha mentre elen 80 ab ha un reclamo da fare perché scrive per la millesima volta quando fanno il room tour c'è sempre la stessa scenetta davide che apre la porta e chiara con la solita frase sempre la stessa canzone mentre jojo r è un po severo perché scrive a casa vivono in mezzo ai pidocchi e quando vanno in giro sanificano persino il frigo andrea pilia 9605 fa un commento un po peccaminoso perché scrive quando faranno l'amore si specchieranno in quel mega specchio grazie andrea per questa visione paradisiaca mi sta tornando sulla scena di ieri sera fabio q5r chiede ma siete in una clinica dentistica in croazia mentre stella granato è un po risentita perché scrive niente di nuovo trash paura mortale scrive nel mentre il povero dennis era nascosto nell'armadio probabilmente stava soffocando dal fetore a questo commento risponde davide non rimberti che dice non ci sono armadi quindi è quasi nella tua fantasia quasi data la presenza di davide omer j simpson ne approfitta per fargli delle domande tipo non dirmi dato che dennis non c'era e che noi ci siamo inventati tutto avete o no fatto la vacanza con dennis e qui davide sparisce poi abbiamo un commento di red lara croft che salutiamo ciao carissima che scrive 9 minuti e 50 secondi bello il taglio dove davide improvvisamente diventa architetto intenditore di finto perché riconosciuto dal fatto che non scricchiola ma tagliarli sti pezzi così eviti l'ennesima figura di merda che gli fai fare beh tu dici una più una meno top mentre la nostra amica elenia scrive dennis ma perché non hai portato chiara e davide a visitare l'abbazia di monte cassino ma che guida sei forse non l'hai visitata mai nemmeno tu che tristezza non si è rosito 1552 è preoccupata per la salute dei coniugi perché gli scrive vi consiglierei di ritornare a casa perché si nota che siete stanchi e in questo commento di maddalena 6941 c'è la conferma che chiara usi palesemente l'account di davide perché maddalena chiede ciao chiara dove hai preso il telomare leopardato e davide norimberti risponde lo avevo preso a viserbella sulla spiaggia c'è anche un'ulteriore conferma perché non si è rosito 1552 scrive basta ad elogiare la bellezza di tuo marito e che palle e qui davide norimberti scrive ma se a me piace e lo voglio dire che ti frega mentre simone zandri 640 è un po confuso perché chiede che cazzo è lo stile america e beh simone mettiti in coda perché noi siamo ancora in attesa che le spieghi che cos'è lo stile grecia poi c'è elo 37u298 che scrive chiara dove dorme il di sangue e conclude la lunga carrellata elisa pozzi che lascia tutta una serie di cuoricini bene questo per il momento è tutto e ci ritroviamo presto per la lettura di nuovi ed esilaranti commenti io vi auguro buona continuazione di serata vi invito a seguire quello che sarà il mio prossimo contenuto ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da gossi